Parliamo dell'Arora e del sacerdote Guida, però questa significa che lo Santamone ha qualcosa di diverso perché il canto è quello di classico di Guida, però è lavorato da Gen Rosso, io lo scorderò in una forma decisamente più attuale, diversa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.